Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo spazio, in quest'angolo che come TG Valle Susa abbiamo deciso di dedicare all'approfondimento, non tanto all'informazione delle notizie perché di notizie ce ne sono già moltissime in circolazione, quanto piuttosto a fermarsi un attimo a riflettere su alcune situazioni, fare un po' di approfondimenti, verificare quello che c'è scritto sul web da parte soprattutto di siti interessanti, non certo siti di carattere scandalistico o complottistico, cose di questo genere. Perché ciò che abbiamo notato è che c'è in corso una delegittimazione piuttosto forte del web. Sono le cosiddette fake news. Ecco, queste fake news che ci stanno attorno, alle quali noi tutti quanti oramai saremmo irretiti in qualche modo da queste fake news. Non esiste più libero pensiero o quant'altro, ma esistono solamente più fake news sul web. Allora, francamente questa modalità di narrazione ci ha anche un pochettino stancato e un pochettino stufato da parte di un certo modello di politica, un certo modello di informazione mainstream. Allora, quest'angolo, sia per chi magari ha anche poco tempo, a volte da dedicare anche alla lettura, per chi ci segue, quei 10-15 lettori che ci seguono, sapete che noi scriviamo articoli di nostra produzione, abbiamo degli amici che scrivono per noi. A riguardo di questo, cosa molto importante, entro fine anno stiamo prontando una nuova sezione di blog attraverso la quale amici che sono talvolta specializzati in alcuni settori che vanno dall'economia alla finanza all'informatica a tanti altri argomenti, scriveranno per noi, avranno un loro spazio direttamente su TG Valle Susa. L'informazione oggi ha una caratteristica particolare, come dicevo prima siamo bombardati da tantissima informazione nel complesso, però ricorda un pochettino, non so se avete presente quei giochi della settimana ennistica nella quale c'è la pagina con tanti 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 puntini e tu con la matitina segui i numeri di questi puntini che hanno questi puntini, fai questi collegamenti e alla fine hai un disegno. Hai un disegno e dici ah che bravo, ho fatto emergere il disegno, ce l'ho fatta. Beh in realtà se ci pensate un attimo avete sì completato un disegno e portato alla luce qualche cosa che prima non era visibile, ma in realtà avete seguito delle indicazioni ben precise, cioè ogni puntino è numerato, voi dovete seguire la sequenza e alla fine avete il risultato, ma quell'immagine è già stata costruita prima, era predefinita nel disegno. Questo è quello che accade un po' oggi con l'informazione, cioè la narrazione dei tanti fatti, collegamenti che vengono compiuti dai mainstream quando non vengono volutamente stravolti, ecco ci porta a delle narrazioni che in molti casi non corrospondono al reale o ci lasciano con molte perplessità. Quante volte in questi ultimi anni, soprattutto da quando è uscito sulla scena politica il Movimento 5 Stelle, nato sull'onda del web, eccetera, 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 non stiamo adesso in questo momento a farne un'analisi, ma quante notizie che sono uscite, sono state date dai giornali e dai media e poi dopo poco tempo si sono rivelate non corrette o assolutamente fasulle inventate di sana pianta. Ecco, la nostra informazione oggi è un po' questa, questa voglia di delegittimare il web e di far passare un po' tutti quanti iperdeficienti. Non so voi, ma io ho questa sensazione. Allora, è vero che sul web ci sono molte persone che scrivono delle stupidaggini, per carità di Dio, però la nostra capacità di discernere non è poi così scarsissima. Vero che ci sono molte persone che seguono a volte delle notizie, ma è capitato anche a me, francamente, a volte di seguire una notizia e non verificarla sino in fondo, darla un po' per buona, per scontata e poi questa notizia si è rivelata fasulla. Quindi, insomma, sono degli errori, dei peccati abbastanza veniali. Tralasciamo le volgarità, tralasciamo chi aggredisce, non mi interessa di quale parte politica appartenga, ci vuole sempre il rispetto della persona nel discutere eppure preservando le proprie convinzioni politiche. Come procediamo? Procediamo andando ad analizzare le diverse opinioni che troveremo sul web, su differenti siti, faremo degli approfondimenti magari attraverso dei libri, con anche delle letture, articoli, interviste come sempre stato nel nostro stile, utilizzando due criteri fondamentali. Il dubbio e la curiosità, che sono i due strumenti necessari per realizzare un po' di reale conoscenza, per arrivare a seguire quel famoso principio di Luigi Naudi, conoscere per deliberale. Diversamente dalla convinzione che vuole oggi il sistema politico per cui tutti quelli che sono sul web capiscono poco o sul web ci sono false notizie, noi faremo una narrazione differente. Il fatto che parlare di false notizie siano proprio quelli che sui media e nell'ambito politico sono i primi a raccontare una marea di balle, come le chiama giustamente Travaglio, è una cosa che avrebbe anche del comico. Giustamente dice sempre Travaglio, giornalista che stimo, che in realtà più che delle fake news questi signori hanno paura delle notizie vere, di quelle che non sono pilotate, di quelle che non sono nascoste, di quelle narrazioni che alla fine nascondono e non scavano mai a fondo. Ora noi cercheremo di portare un piccolo contributo su questo, senza nulla togliere ai grandi maestri pochi del giornalismo che ci sono, anche perché nella quotidianità normalmente si tende a dire che la gente si deve informare e questo è giusto. Però è anche vero che nella situazione attuale non è che le persone hanno il tempo durante la loro giornata, dove hanno i loro impegni lavorativi, di famiglia, di casa, di quant'altro, per leggersi 4-5 quotidiani, 10 siti web, libri e quant'altro, tutti insieme, poi farne una disamina e trarne fuori un'analisi, un'analisi finale per farsi proprio perfettamente un'opinione. Nella società che stiamo vivendo, che è molto complessa, dove ci sono tante informazioni, alcune in realtà che sono anche sempre uguali, che rimbalzano da una parte all'altra, è sicuramente difficile. Quindi noi cercheremo nel nostro piccolo di fare la nostra parte per aiutare le persone a farsi venire dei dubbi. Quindi vi diamo appuntamento prossimamente con questa rubrica che abbiamo intitolato Briciole di pensiero. Speriamo di fare cosa gradita, speriamo che quei 10-15 lettori che ci seguono normalmente magari diventino 17-18 e speriamo soprattutto che insieme, poi potete sempre contattarci a redazione-tgvallesusa.it con suggerimenti, proposte, critiche, articoli e quant'altro, noi siamo uno spazio aperto. Se chiunque ci manda del materiale interessante, che può essere pubblicato, ovviamente che non crea dei problemi legali, noi siamo aperti e non necessariamente a opinioni che siano come le nostre. Briciole Vallesusa è uno spazio aperto. Quindi vi do appuntamento a presto, auguro a voi e alle famiglie, dato che siamo in prossimità del Natale, delle festività, un sereno augurio di festività in famiglia e mi raccomando rimanete sintonizzati. Se vi piace questo spazio condividetelo, cliccate su Facebook, like o quant'altro, insomma cercateci e aiutateci a divulgare dubbi, riflessioni e curiosità. Ne abbiamo bisogno anche perché ci attende una campagna elettorale che sarà indecente, peggiore di quella che abbiamo visto nel 2016 per la campagna referendaria sulle maledette riforme pensate da Renzi e dai suoi amici. Grazie, a presto, ciao a tutti. Grazie.